Occhio che il demone di Prato è partito, il demone di Prato è partito ma obiettivamente non può essere neanche altrimenti perché vedendo la molle di lavoro che avrà da fare quest'estate, se certe cose riesce a sbrigarle un pochino prima sicuramente meglio è, sicuramente meglio è. E infatti non mi sento minimamente di dar torto e se magari ci poteva essere la questione allenatore quella presumibilmente è stata risolta, quantomeno per quanto riguarda l'allontanamento di quello che fino a una settimana fa era l'allenatore della Juventus. Poi dopo anche il colloquio odierno tra Tiago Motta e Saputo dove c'è stato poi anche il comunicato ufficiale del Bologna, le dichiarazioni rilasciate a Lanza mi pare da Tiago Motta dove insomma ringrazia un pochettino tutti quanti l'onore di aver riportato il Bologna in Champions League e bla bla bla. E che quindi si spera che magari adesso ci sono i cosiddetti tempi burocratici per l'ufficialità di Tiago Motta ma mi auguro che sia roba fatta, una parte di me comunque sempre pronta psicologicamente a quello che in termine tecnico viene definito calipone ma lì è proprio una roba mia, è proprio una roba mia. Preparati sempre al peggio che per stare dalla parte del sicuro non sbagli nulla anche se dai in una maniera un pochino più razionale dovrebbe essere una situazione abbastanza ben delineata via e adesso rimane l'aspetto dei giocatori. Prima di entrare nel merito per fare tutti i nostri vari discorsi ragazzuoli come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace perché qui a tutti gli effetti si sta iniziando a costruire la Juventus del futuro piaccia o non piaccia. E se ancora non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi al canale che al di là di tutto questa rimane una cosa semplicemente importantissima né più né meno. Detto ciò, detto ciò, io immagino ovviamente che Giuntoli sotto banco stia già lavorando per diversi colpi in entrata e in uscita. Immagino si stia interfacciando con diversi procuratori, con diversi direttori sportivi di altre squadre per sondare i vari terreni e per capire la fattibilità o meno di determinate operazioni. Allo stesso tempo immagino sia a contatto anche con agenti di attuali giocatori della Juventus che insomma se si iniziano a guardare attorno e iniziano a portare delle offerte alla continassa così tanto male poi non è. Tra le altre cose da quello che si vocifera quindi prendete tutto quanto estremamente con le pinze pare che anche all'entourage di Sule sia stata data un'indicazione di questo genere. Se c'è qualcuno che è disposto a portare più o meno sulla quarantina di milioni verrebbe accolto con un discretissimo sorriso nonostante che il tutto sinceramente mi può dispiacere. Mi dispiacerebbe più che altro mi dispiacerebbe un giocatore che comunque è andato in doppia cifra al primo vero anno di Serie A dove ha avuto modo di giocare con continuità in quello che è il suo ruolo naturale. Vero che molti di questi gol se non quasi tutti li ha fatti da calcio piazzato per carità di Dio però comunque calcio piazzato rigore insomma ci siamo capiti. Però vedendo anche che comunque si parla pur sempre di un classe 2003 dispiacerebbe privarsene allo stesso tempo ci sono anche ragioni di bilancio c'è anche un budget da creare. Non lo so vedremo certo è che voglio tendere a fidarmi indubbiamente voglio tendere a fidarmi vedendo che insomma tutto quanto è stato delegato come è logico che sia alla figura di Cristiano Giuntoli. Ha dimostrato nel corso della sua carriera di essere un direttore sportivo in questa circostanza un responsabile dell'area sport estremamente preparata quindi ci mancherebbe. Ma in tutto questo giungendo così dopo una vaga premessa al punto e beh anche per quanto riguarda i rinnovi inevitabilmente devi iniziare a darci dentro. E nelle ultime ore pare siano praticamente cosa fatta due rinnovi che sinceramente voglio pensare anche tre. Il primo è quello di Daniele Rugani che pare rinnoverà fino al 2026 con opzione per il 2027 quindi biennale più uno magari al verificarsi di determinati obiettivi personali un pochino come purtroppo era stato nella passata stagione per Alexandro una volta raggiunte tot presenze e scattato il rinnovo automatico anche se per fortuna si parla di cifre decisamente differenti rispetto a quelle per Alexandro che a livello di stipendio lordo che cos'è se non è il primo è il secondo giocatore più pagato della rosa stipendio lordo attenzione non netto non cadiamo in questo giochino consideriamo quanto a tutti gli effetti la Juventus Football Club deve sborsare tra giocatore ed erario però appunto evidentemente si continua a ritenere Daniele Rugani un giocatore estremamente affidabile come riserva anche per i prossimi due barra tre anni evidentemente voglio immaginare che ci sia stato una sorta di lascia passare anche da parte di quello che sarà il prossimo allenatore detto in modo estremamente onesto immagino di sì sinceramente immagino di sì dando per buono che veramente per Tiago Motta mancano no come direbbe qualcuno solo ed esclusivamente le cose formali le tempistiche per rendere il tutto ufficiale così come invece notizia fresca comunque degli ultimi giorni delle ultime ore anche Cambiaso stessa identica cosa l'unica differenza è che se per uno si parla di 2026 massimo 2027 nel caso di Cambiaso si parla di 2029 quindi un rinnovo per ulteriori cinque anni che vedendo voglio dire quella che è stata questa stagione sicuramente è stato di buon auspicio Cambiaso tra l'altro che è stato pure allenato da Tiago Motta nella passata stagione dove proprio era in prestito al Bologna quindi anche qui evidentemente immagino ci sia una sorta di apprezzamento per il tecnico nei confronti del giocatore ci sarà anche un aumento salariale cosa sinceramente estremamente logica nel momento in cui ci parla di un giocatore che in questa stagione ha percepito un milione netto poi adesso non sta a significare che automaticamente se Purino prima ne prendeva uno adesso gliene devi dare 4-5 però è semplicemente logico soprattutto quando proponi un rinnovo fino al 2029 includere all'interno di tutto questo pure un aumento salariale non mi stupirebbe se superasse il doppio ecco sui 2 milioni 2 milioni e qualcosa ma questo lo scopriremo ovviamente a tempo debito Kenan Hildiz bene o male idem con patate si continua sempre a parlare di questo benedetto numero 10 di questo rinnovo che cos'è fino al 2028-2029 pure lui non so se poi sarà 2027 con opzione dato che comunque anche l'opzione di un ulteriore anno va abbastanza di moda ma al di là di tutto Hildiz mi dà l'idea che più cresce più di anno in anno ti ritrovi di nuovo con la gente per discutere di un ulteriore adeguamento salariale magari un ulteriore prolungamento robe di questo genere ed attenzione comunque anche ad una cosa il numero 10 ormai sembra anche quasi formalità stando a come tutti continuano a parlarne in più se pensiamo anche che Hildiz è estremamente un uomo adidas infatti non so se vi ricordate quando era stato preso dal Bayern Monaco alla Juventus nonostante si parlasse di un giocatore della primavera a tutti gli effetti perché aveva fatto la prima parte di stagione con l'Under-19 di Paolo Montero minchia sembrava ad aver preso Toni Kroos un altro uomo adidas a caso che mi è venuto in mente con l'Adidas stessa che aveva fatto il video di presentazione un video di presentazione allucinante come se minchia ad avere riandato a prendere un top player quindi estremamente uomo adidas aggiungiamoci che quella di Kenan Hildiz è stata a mani basse la maglia più acquistata negli store della Juventus nella stagione 2023-2024 immagino soprattutto negli ultimi 5-6 mesi dove ha avuto una certa continuità con la prima squadra e nonostante tutto maglia più venduta la Juventus farà proprio a luglio-agosto insomma a ridosso di quei mesi lì ovviamente parte della preparazione in Germania in quelle che sono le strutture adidas se uno inizia a fare come nella settimana enigmistica e inizia ad unire un pochino tutti quanti i puntini una risposta potrebbe anche venire fuori diciamo, lasciamo ovviamente un pochettino di beneficio del dubbio una risposta potrebbe tranquillissimamente venire fuori e in più ora ci sono anche tutti quei rinnovi da chiarire che sono un pochino un punto di domanda si parlava che molte situazioni verranno chiarite una volta finita la stagione vedendo che alle 8 di dopodomani la stagione della Juventus sarà a tutti gli effetti finita già la prossima settimana sarà motivo di poter pensare che ci saranno diversi incontri quello con la signora Veronique in quanto comunque anche Tiago Motta è stato un compagno di squadra di Adrien Rabiot si dice che tra i due ci sia un ottimo rapporto sono stati beccati all'intervallo mi pare di Bologna-Juventus dalle telecamere di Dazono proprio diciamo no? così in una fase da braccio in una fase amichevole e chissà se magari hanno avuto modo di discutere per il futuro per quanta stima indubbiamente Rabiot ha avuto nei confronti di Massimiliano Allegri e si diceva che se ha deciso di rimanere pur in questa stagione e anche proprio grazie al rapporto con Massimiliano Allegri beh anche con Tiago Motta sicuramente il rapporto non è dei peggiori diciamo semplicemente così poi certo bisogna anche capire quanta intenzione possa avere la Juventus di dare per altri 2-3 anni 7 milioni al giocatore senza la possibilità di usufruire del decreto crescita in tutto questo altre due situazioni non proprio banali sono quelle di Weston McKennie e Federico Chiesa entrambi in scadenza nel 2025 e per entrambi vale bene o male lo stesso discorso se riesce a trovare un accordo che mette d'accordo tutte e due le parti ben venga altrimenti c'è un'altissima probabilità di vederli partenti quest'estate perché semplicemente in caso il rischio è quello di perderli a parametro zero nell'estate del 2025 che sicuramente non è lo scenario migliore per McKennie molto probabilmente si gioca anche dal punto di vista economico vedendo che l'ultima proposta della Juventus era stata di 2 milioni e mezzo anche qui magari qualora ci dovesse essere una particolare insistenza da parte dell'allenatore che sarà perché ritiene Weston McKennie un uomo centrale in quella che sarà la sua idea di Juventus sarà un discorso altrimenti sinceramente sono pronto a qualsiasi tipo di scenario per quanto riguarda Federico Chiesa bene o male idem con patate io sinceramente l'ultimo ballo di Federico Chiesa con un allenatore differente da Massimiliano Allegri per capire se dopo quel crociato è proprio lui che purtroppo non è più il giocatore di prima o se magari prima era costretto a fare in campo delle cose non particolarmente nelle sue corde e che con un allenatore differente può tornare sulla falsa riga di quel giocatore lì sinceramente l'ultimo ballo quantomeno l'ultimo ballo proverei a farlo probabilmente anche Chiesa vedendo quello che è stato il Bologna di Tiago Motta forse così questa mezza idea di provare a fare quest'ultimo ballo potrebbe avercela tanto che appunto proprio dopo Bologna Juve aveva detto che la sua volontà era quella di rimanere alla Juventus poi anche lì i matrimoni si fanno in due vedremo se la richiesta del giocatore e quella che sarà l'offerta eventuale della Juventus riusciranno a trovare un punto d'incontro perché altrimenti nonostante le varie volontà si fa fatica se entrambi magari non fanno un piccolo sacrificio per l'altro indubbiamente si fa fatica ma a tutti gli effetti si sta entrando nel vivo c'è veramente molto ma molto ma molto poco da dire voi ragazzuoli fatemi ovviamente sapere le vostre considerazioni qui sotto con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine Forza Juve Forza Juve